bentornato guti e bentornata proseguiamo nella descrizione del pulsante start del menu che nasce dal pulsante in questo caso andiamo a vedere esplora file è un programma che è integrato nei sistemi operativi della microsoft che ha cambiato nome nel corso delle varie versioni ma il cui scopo è comunque sempre lo stesso lo utilizzerai ogni volta che vorrà esplorare i contenuti di un dispositivo e non solo infatti se devi individuare un file in una cartella in un supporto ottico una pendrive una flash memory o genericamente un disco rigido farai uso di questo programma potrai avere una grande indicazione sul funzionamento del programma esplora file seguendo le precedenti lezioni che ho già trattato in windows 7 e precisamente le lezioni che vanno dalla 68 alla 70 con i rispettivi video tutorial in questa sede comunque rivediamo rapidamente la versione per questo sistema operativo come accedi il modo più semplice per avviare è dalla barra delle applicazioni infatti avrai un'icona a forma di cartella di color giallo così come vedi in questo screenshot potrai semplicemente cliccarci sopra e si avvierà altra possibilità proprio cliccando con il pulsante destro sul pulsante start dal menu che si genera troverai il pulsante esplora file con il quale potrai avviare l'applicazione ancora ti potrai regare nel menu start e massimizzando il numero dell'applicazione in visione potrai evidenziare appunto l'icona esplora file oppure questo pc che comunque esegue la stessa funzione ancora avviando il comando esegui e scrivendo nel campo la parola explorer potrai cliccare su ok o tramite il tasto invio sulla tastiera e si avvierà il programma esplora file ultima opzione che ti evidenzio è dalla funzione cerca nella quale sezione potrai scrivere le parole esplora file e troverai appunto il collegamento che ti servirà per avviarlo ma come lo usi brevemente si fa per dire per individuare visionare eliminare spostare copiare tagliare incollare inviare dei collegamenti scansionare conoscere le varie proprietà dei file comprimere decomprimere aprire file modificare e molto molto altro ancora praticamente ogni azione possibile che ti vengi in mente o quasi da poter eseguire su un elemento questo in relazione alle varie periferie di archiviazioni siano esse reali che virtuali connesse al tuo computer inoltre una volta avviato il programma e cliccando su un elemento da esplorare noterai che nella sezione superiore nasceranno delle barre che muteranno in base a ciò che potrai eseguire in relazione appunto al file selezionato azioni possibili dedicate per migliorare la tua esperienza di lavoro e semplificare quindi la gestione del tuo computer troverai anche altri pulsanti che ti permetteranno l'avvio di applicazioni non necessariamente correlate all'elemento che hai evidenziato cliccando con il pulsante destro del mouse poi sull'elemento selezionato inoltre nascerà un mondo di opportunità mi è impossibile ovviamente dartene una dimostrazione perché ciò varierà in base a quello che avrà installato e qui una piccola dimostrazione da questo fermo immagine infine potrai avviare anche il programma più volte ed affiancare le finestre in modo da posizionarle una affiancata all'altra per una migliore gestione dei contenuti tra una sezione e l'altra un modo più facile di interazione come vedi una grandissima versatilità importante nella gestione dei contenuti delle tue periferie di quelle che sono collegate al computer eccoci goodler in zona pratica allora per avviare esplora file la cosa più rapida è quella di cliccare sull'icona che trovi sulla barra delle applicazioni la posizione attualmente può cambiare in quanto potrai spostarla a tuo piacimento nel momento in cui clicchi sopra si avverà immediatamente il programma da qui avrai una visione da assieme ma andiamo per ordine altra possibilità per avviare esplora file è dal pulsante start clicca con il pulsante destro e anche qui trovi l'opzione esplora file per la sua apertura o ancora cliccando di nuovo tramite il comando esegui sarà sufficiente scrivere explorer e avviare anche qui il programma come puoi vedere ho aperto due sezioni di esplora file che posso affiancare l'un l'altra tramite l'opzione mostra le finestre affiancate o in pila diciamo di affiancarle come vedi io posso gestire a mio piacere le due sezioni in modo da poter spostare o visionare indipendentemente le due sezioni ma andiamo a vedere altri modi per avviare esplora file dal menu start massimizza il numero di icone da visionare scorri con la barra verso destra finché non incontri il pulsante esplora file oppure questo pc che eseguono entrambi la stessa funzione ti ricordo che puoi interagire con questi due pulsanti per scegliere eventuali opzioni clicchiamo in questo caso su questo pc e vedrai aprire esplora file naturalmente ultima opzione dal menu cerca raggiungibile in vario modo qui puoi scrivere semplicemente esplora file e nel momento in cui lo trovi naturalmente cliccandoci sopra si avvierà il programma come detto in base all'elemento che selezionerai avrai in visione in questa zona delle opzioni diverse man mano che sceglierai l'elemento come vedi ci sono pulsanti che ti permettono di eseguire alcune opzioni ben definite selezioniamo un elemento qualsiasi un qualsiasi file per vedere come funziona esplora risorse seleziona questo file puoi avere varie opzioni di integrazione della visualizzazione come vedi in tempo reale otterrai una visualizzazione che si modifica in base alla scelta che eseguirai torniamo su un file qualsiasi e in base al menu e in base al file che selezioni i menu che si evidenziano nella zona degli strumenti sarà variabile in base alla tipologia di file che andrai a selezionare potrai scegliere da questo menu ad esempio le proprietà del file che andrai a evidenziare cosa possibile naturalmente anche con il pulsante destro nascerà un menu che cambierà in base al file che selezionerai puoi creare nuove cartelle eliminare i file spostarle o copiarli tagliarli sfruttare la potenza di queste barre che ripeto cambieranno in base alle tue necessità altra possibilità è il tasto destro del mouse cliccando su un elemento nascerà un menu che sarà variabile in base all'elemento che andrai a selezionare quindi potrai interagire con lo stesso facendolo aprire o mandando in esecuzione il programma se fossi un amministratore aggiungerlo al pulsante start inviarlo in qualche zona del tuo computer o in qualche periferica esterna se fosse collegata tagliare, copiare, incollare, creare collegamenti, eliminare, rinominare oppure scansionare anche qui le proprietà del file che andrai a selezionare puoi sfruttare le opzioni della barra laterale scegliendo il menu che ti si crea scorrendo all'inizio o alla fine oppure scorrere fino al punto che hai selezionato per una visualizzazione più rapida qualora gli elementi da visionare siano molti oppure scorrere verso l'alto o verso il basso o semplicemente spostare la barra scorrimento per una migliore e più rapida visualizzazione come vedi è abbastanza complessa la situazione e è praticamente impossibile andare a visionare tutte le potenzialità di questo programma ExploraFile sta a te con il tempo imparare tutte le varie opportunità che ti offre questo programma ti rimando comunque alla visione delle lezioni dalla 68 alla 70 e soprattutto i video tutorial per avere una miglior comprensione di questo programma come sempre nella prossima lezione continuo a spiegarti questa sezione del pulsante Start ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima